... Clint Eastwood contro un pugile che uccide. Il match si fa! E che nessuno ormai osa sfidare. Hanno cominciato! Questo killer del ring è Jack Wilson. Combatte anche per le strade, senza guanti, armato dei suoi pugni duri come l'acciaio. Vi ricordate Clint Eastwood in Filo da Torcere? Eccolo di nuovo in Fai Come Ti Pare, con la sua banda spensierata. Eccolo! Fai Come Ti Pare! Andrete a colpo sicuro e con una gran voglia di scatenarvi. Fai Come Ti Pare! Fai Come Ti Pare!